Stiamo aspettando, ora l'inizio naturalmente abbiamo, vedete, il ritmo era che è salta, credo che è il ritmo salta, lo so, però è l'entusiasmo, dei tifosi, qualcuno che stai sulla stampa ha paragonato la conferenza stampa di Anterra, ieri a quella di Giosè Murigni nel 2008 per l'attenzione, per l'intesimazione, per la scelta.